Shelley una divisione di alterco robotics che crea dispositivi per la casa intelligente ha presentato sei nuovi dispositivi smart che si rivolgono sia agli installatori che agli utenti finali in questo video ti racconto cosa fanno questi nuovi dispositivi ma nel frattempo iscriviti al canale accendendo la campanella per rimanere aggiornato sull'uscita dei prossimi video la serie shelley plus include ora il nuovo rilevatore di fumo shelley plus smoke che integra indicazioni sonore luminose nel caso che venga rilevato del fumo e invia una notifica all'elettro smartphone grazie ai webbook puoi seguire scene intelligenti preimpostate come una scena di emergenza che apre automaticamente le tapparelle avvia il sistema di ventilazione domestica e interrompe l'alimentazione agli elettrodomestici la serie shelley pro include invece il nuovo misuratore di energia trifase shelley pro 3m che è un misuratore di energia installabile su barra din con connettività sia bluetooth che lan e supporto modbus questo dispositivo consente di monitorare il consumo di tre circuiti elettrici con 60 giorni di dati storici memorizzati localmente sul dispositivo le misurazioni arrivano ad una precisione dell'1 per inoltre shelley ha introdotto shelley blue button 1 il primo dispositivo della prossima linea di dispositivi bluetooth senza bisogno di wifi e con un consumo estremamente ridotto della batteria il pulsante shelley blue consente di fare eseguire azioni preimpostate agli altri dispositivi shelley con una semplice pressione del pulsante l'ultimo dispositivo presentato è la presa shelley plus plug questo dispositivo è dotato di connettività sia bluetooth che wifi indicazione led multicolore regolabile è in grado di monitorare il consumo e controllare la limitazione dell'elettrodomestico collegato shelley plus plug integra inoltre le funzionalità di scripting consentendo ai clienti di aggiungere funzionalità personalizzate ed estendere le capacità del dispositivo accesso 2023 shelley ha anche mostrato su android wall panel che sarà disponibile entro la fine dell'anno un controller da posizionare sul muro e dotato di schermo touch colori da 4 pollici ha sensori di temperatura umidità e luminosità integrati e può funzionare come termostato è in grado di monitorare i consumi elettrici dei dispositivi shelley supportati e con un solo rapido tocco dello schermo può comandare l'accensione e lo spegnimento del relè di un dispositivo shelley sempre accesso shelley ha reso noto che tutti i dispositivi shelley plus e pro potranno essere utilizzati come sensori di rete wifi e gateway bluetooth inoltre a partire dalla metà del 2023 gli stessi dispositivi saranno aggiornati per supportare il nuovo protocollo matter infine il primo febbraio shelley lancerà la nuova interfaccia di gestione dei suoi dispositivi utilizzabile su tablet smartphone e browser la grafica è stata completamente rivista sarà meno testuale e farà molto più uso di icone grafici se hai domande lasciami il tuo commento e non dimenticate di condividere questo video con un bel like ciao ci vediamo presto